e mercoledì ventinove gennaio buongiorno Friuli e ben trovati anche questa mattina al nostro appuntamento con la rassegna stampa iniziamo subito dando uno sguardo al meteo alle condizioni del tempo in queste prime ore del mattino le temperature innanzitutto qui siamo sul monte Lussari dove in questo momento il termometro segna meno 3 gradi e 5 decimi a Tarvisio meno 0,7 a Sappada meno 3 gradi e 4 sullo Zoncolan meno 4 gradi e 4 decimi a Tolmezzo un grado e 3 e poi scendendo in pianura a Udine 6 gradi e 2 decimi in questo momento 4 gradi e 2 a Pordenone 6 gradi e mezzo a Gorizia 8 gradi e un decimo a Trieste sulla eh costa a grado il termometro segna 8 gradi e 8 decimi il cielo è un po' nuvoloso su tutta la regione adesso andiamo a vedere come proseguirà questa giornata per quanto riguarda il tempo con le nostre previsioni ben ritrovati al consulto appuntamento con le previsioni meteo del Triuli Venezia Giulia di mercoledì 29 gennaio in montagna cielo in genere sereno con nebbie di notte nel fondo valle in pianura e sulla costa al mattino avremo cielo variabile per nubi basse o nebbie che potrebbero persistere anche per parte della mattinata poi sereno in serata torneranno a formarsi le nebbie temperature sulla costa le minime saranno comprese fra i 3 e i 6 gradi le massime fra gli 8 e i 10 gradi in pianura le minime saranno comprese fra meno 1 e 3 gradi le massime tra 10 e 12 gradi a mille metri 0 gradi a 2 mila metri meno 4 gradi grazie per averci seguito e a domani con le previsioni meteo andiamo anche sulla pagina infotraffico di autovie vediamo come la situazione in tempo reale ecco un' immagine che ci mostra appunto la cartina non ci sono segnalazioni particolari da fare vediamo anche la webcam che ci mostra in tempo reale il traffico su questo tratto di autostrada al bivio tra la 4 e la 23 in direzione milano situazione tranquilla dunque in questo momento sulla a 23 dalle prime ore del mattino sono in azione i mezzi spargi sale tra lo svincolo di udine sud e tangenziale lo svincolo di udine nord chiudiamo adesso anche l'aggiornamento sulla viabilità e iniziamo a sfogliare i quotidiani di oggi innanzitutto le prime pagine dei quotidiani nazionali c'è la politica in primo piano ma anche l'emergenza legata alla diffusione del virus che in cina ha causato già più di 100 morti allora subito la prima pagina del corriere della sera che in apertura titola virus la corsa ai rimpatri la farnesina ponte aereo con la cina quattro casi di contagio in baviera gli italiani potrebbero tornare con un volo francese le vittime superano quota 100 ed ecco ancora l'apertura del corriere della sera la farnesina dunque a un piano pronto per il rientro degli italiani che sono barricati in questo momento a Wuhan con un volo francese e a proposito di Francia a centropagina la protesta dei pompieri a Parigi pompieri in piazza a Parigi e scontro con la polizia chiedono un miglioramento delle condizioni di lavoro e poi la politica dicevamo allora andiamo nel taglio alto e vediamo il caos 5 stelle lite sull'alleanza alle regionali franceschini dice sarà bipolarismo tra partito democratico e lega andiamo su Repubblica adesso e vediamo qui la politica in apertura con Salvini guai in casa il prezzo della sconfitta Giorgetti critica la campagna elettorale Meloni Berlusconi no a candidati leghisti nelle regionali del sud Zingaretti accoglie l'appello di Prodi nei dem anche non iscritti odio la sinistra con la puzza sotto il naso e poi vediamo la consigliera Elis Lane più votata il PD e smetta di guardare al centro e ancora a centropagina in Germania il primo malato che non era stato in Cina virus Wuhan più di cento morti nuovi contagi ed è paura anche in Europa andiamo a vedere adesso la prima pagina della stampa fronte contro Salvini l'idea di Conte che fa infuriare i 5 stelle l'apertura del premio era una formazione unica progressista a spacca i 5 stelle parla Bonaccini che dice basta liti nel governo e i grillini sbagliano a eh isolarsi ancora andiamo anche sul fatto quotidiano che guarda in casa 5 stelle parte la corsa tra Contiani Dibba e Di Maiani a un mese dagli stati generali del movimento 5 stelle Di Battista prepara una mozione antiliberista la Caselli front woman per Di Maio Patuanelli Taverna e Grillo pro eh governo la prima pagina del giornale già incartati e salvati dal blef di Renzi prescrizione e autostrade governo in crisi Italia condannata imprese pagate tardi dalla pubblica amministrazione vediamo anche la prima pagina della verità come voleva si dimostrare dopo il voto gli sbarchi passate le elezioni e le celebrazioni a reti unificate della sconfitta dei eh barbari i quattrocento migranti della Ocean Viking arrivano a Taranto adesso non possono più irritare gli emiliani è il trionfo dell'ipocrisia al eh governo dice la verità e Salvini denuncia Conte e la Lamorgese per sequestro di eh persona vediamo anche la prima pagina di è libero più maschicidi che femminicidi scrive libero sorprendente verità sulle statistiche ultimi dati disponibili centotrentatré uomini uccisi all'anno mentre le donne sono centoventotto eppure non si assiste a mobilitazioni in favore del sesso forte che in realtà è eh debole andiamo anche sulla prima pagina del manifesto che ehm in apertura titola buonanotte palestina Trump offre uno stato ai palestinesi ma in realtà propone solo un'entità fantoccio senza sovranità Netanyahu applaude e per l'ambasciatore americano Friedman Israele può annettersi subito le colonie illegali della Cisgiordania la collera di eh Abu Mazen dell'ANP e di Hamas ecco ancora la prima del eh manifesto vediamo anche il sole ventiquattro ore fusioni bancarie la BCE detta le eh regole per la eh per le fusioni eh tra le eh banche e poi vediamo a centropagina Luca De Meo un italiano al volante di Reno e il nuovo CEO e eh presidente vediamo anche la gazzetta dello sport in apertura la coppa Italia ecco il titolo Milan cose turche gran rimonta e quattro a due in semifinale sfiderà la Juve furia toro Cialanoglu due a zero e Ibra prima rete a San Siro entrano e cambiano la gara ai supplementari ma dopo trentasei minuti Rebic andava espulso mazzarri dice errore clamoroso di eh Pasqua chiudiamo i quotidiani nazionali adesso sui quali eh ritorneremo in particolare su quegli sportivi nella seconda parte del nostro buongiorno Friuli per eh puntare l'attenzione sui quotidiani locali su messaggero Veneto piccolo e eh gazzettino vediamo subito la prima pagina del eh gazzettino anche qui diamo un'occhiata innanzitutto alla prima dell'edizione nazionale vediamo anche eh qui il virus cinese in primo piano potente ponte aereo per gli italiani Cina caos rimpatri manca l'ok delle autorità l'ipotesi di un asse con la Francia per i rientri un turista ricoverato a Napoli per analisi e eh in Germania accertati altri tre casi in eh Baviera andiamo adesso sul dorso del Friuli e andiamo a vedere le notizie in eh primo piano c'è la cronaca con un grave incidente stradale costato la vita a una giovane di ventisette anni muore a ventisette anni mentre va al lavoro tragico incidente stradale ieri mattina a eh premariacco la vittima è Chiara Dorotea bancaria originaria della Carnia la giovane ha perso il controllo dell'auto all'improvviso e si è schiantata contro un ponticello inutili i eh soccorsi questo è il titolo in eh prima pagina e poi nelle pagine interne abbiamo anche eh l'articolo e l'immagine dell'auto che è finita sotto questo eh ponticello sbanda mentre va al lavoro muore sul colpo a ventisette anni è successo nella frazione di ehm Azzano ecco qua ancora tutto l'articolo shock in Carnia se ne è andata un'anima brillante e eh solare ancora sempre sulla prima del gazzettino del Friuli a eh centro pagina il nuovo disciplinare per la produzione del prosciutto DOP di San Daniele più regole per la qualità ieri è stato presentato ufficialmente il nuovo disciplinare che dovrà essere rispettato dai produttori del San Daniele molta attenzione è stata posta sulla qualità degli alimenti dati ai maiali ma anche sulle eh sulle specie eh utilizzate proprio per la eh produzione di eh prosciutto di San Daniele ancora sul peso eh degli eh animali nuove regole dunque per il disciplinare DOP. Per la cronaca rubavano gasolio in A4 denunciati furti anche sull'A23 in totale 800 litri nei guai tre camionisti di origine eh rumena e poi per la Saffilo incontro decisivo il 5 febbraio lo ha comunicato l'azienda con una nota diffusa anche ai sindacati e alla regione. Spiragli per la cassa straordinaria e la riconversione del eh sito. Di spalla vediamo alcuni lavori pubblici a Udine e Castello sì ad ascensore e eh cremagliera per la salita sul castello di Udine si riapre dunque la strada per la realizzazione di un ascensore che ehm colleghi la biblioteca eh di via Ioppi al colle del castello la cima del colle del castello oltre all' impianto di risalita cremagliera di cui ehm si si parla appunto da da tempo. Nuovo bar nel nel ex negozio metropolis in città a Udine e poi nel taglio basso per quanto riguarda la politica ehm il presidente Zanin non è incompatibile con le altre cariche pubbliche che ricopre il presidente del consiglio regionale e quindi può rimanere al suo posto questo il verdetto emesso ieri dalla giunta delle elezioni che si è riunita in regione e poi eh stampa in 3d arrivano 50 eh esperti 50 studenti dell'ITS eh malignani. Nel taglio alto eh vediamo un po' di eh sport un po' di calcio Udinese via Opocco e Barac, ipotesi Prold per De Maio, queste le voci di mercato e poi ancora i negrita in arrivo al teatro nuovo si raccontano nei venti anni di Resetti il diciannove febbraio a eh Udine e ancora sempre per gli spettacoli monologo ricorda gli omosessuali perseguitati dal fascismo. Lasciamo il gazzettino adesso e andiamo sulle pagine del messaggero Veneto di eh Udine vediamo i titoli di eh apertura anche qui l'incidente stradale di Premariacco morta mentre andava al lavoro vittima una bancaria di ventisette anni originaria di Tolmezzo e residente a eh Cividale era impiegata alla Friuladria di eh Palmanova. E poi ancora per la cronaca bomba da mortaio inesplosa nella roggia dei giardini ricasoli è stata trovata dai eh tecnici del consorzio di bonifica che stanno effettuando dei lavori di pulizia della eh della roggia e eh sono intervenuti gli artificieri per rimuoverla e farla brillare altrove. L'ex bianconero Bodo salvo dopo due incidenti in Nigeria e ancora addio alla maestra che nelle settantasei insegnò nelle eh tendopoli ecco l'articolo nelle pagine interne mandi alla maestra della Marilenge. Maria Gabriella Tutti settantanove anni dopo le settantasei insegnò nelle tendopoli e nei eh prefabbricati portò il friulano scritto e orale in classe. Torniamo sulla prima e vediamo ancora qualche altro titolo in sette mesi è incappato eh quarantatré volte nell'autovelox sette mila euro di multa. Di spalla vediamo la politica con eh la nascita dell'asse centrista tra Forza Italia e eh progetto FVG che hanno deciso di eh federarsi partendo dal consiglio regionale e poi il lunedì nero della sanità con i eh computer che sono andati in tilt lunedì mattina i sistemi insieme sono vecchi dice l'assessore regionale eh Callari. Nel eh taglio alto si parla anche qui del prosciutto di San Daniele il messaggero scrive il prosciutto messo a dieta meno meno sale stagionatura più lunga nei nuovi parametri del eh consorzio e poi spazio anche alla premiazione negli Stati Uniti della famiglia Nonino migliori al mondo scrive il messaggero e vediamo qui le eh foto l'orgoglio dei Nonino abbiamo rivoluzionato il modo di bere eh grappa miglior distilleria del mondo per wine entusiasta San Francisco Gianola Elisabetta e Francesca tre eh generazioni di eh imprenditrici. Chiudiamo anche questa eh pagina per andare un attimo nel taglio basso della prima e vedere anche un altro titolo che ci porta a parlare di Javier Sotomayor eh in regione in eh questi giorni il recome il record man cubano ecco come volavo fino a due metri e eh quarantacinque. Andiamo sulle pagine interne del messaggero di eh Udine e vediamo la cronaca locale in apertura insegna lo stadio il comune vince anche in appello anche la corte di appello di Trieste ha dato ragione al comune ma l'Udinese non intende arrendersi e i suoi legali sono già al lavoro per preparare il ricorso in eh Cassazione e nel frattempo le insegne della Dacia Arena restano al loro posto e poi ancora a proposito di decisioni del Tar in questo caso no del Tar al ricorso firmato dal comitato l'antenna Telecom resta in via l'Aipacco il tribunale amministrativo rigetta la richiesta dei cittadini e dice procedure corrette i luoghi non scelti sull'onda eh emotiva. Questo è il messaggero Veneto di eh Udine andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto di eh Pordenone e vediamo anche qui i titoli di eh apertura andiamo subito sulle pagine eh locali sul fascicolo dedicato alla destra tagliamento riaffidati i lavori della quattro novembre corsa per evitare ritardi e eh disagi la prima impresa coinvolta in una procedura fallimentare e poi per la nuova loza è previsto un esproprio gabelli opere eh diluite corsa contro il tempo per riuscire a concludere i lavori della scuola quattro novembre entro la fine dell'estate duemila eh eventi e poi abbiamo tutto l'articolo andiamo anche sulle pagine del piccolo il piccolo di Trieste e il piccolo di eh Gorizia prima di adentrarci sulle pagine sportive dei eh quotidiani eh locali professore arrestato per violenza su un'allieva questo è il titolo di apertura del gazzettino l'uomo insegna in una scuola media della eh zona a eh Monfalcone tra i due una relazione denunciata da eh terzi operazione dei carabinieri di eh Monfalcone ecco qua il titolo di apertura del piccolo e poi eh vediamo nel eh taglio alto dal centro al porto vecchio con l'ottantuno una nuova linea di eh autobus in eh città a Trieste e poi eh sempre nel taglio alto all'asta il chiosco del Molo Audace solo pochi metri quadrati ma eh posizione eh strategica ci sono tre eh pretendenti ancora andiamo anche sul piccolo di eh Gorizia andiamo a vedere anche qui i titoli eh principali vediamo in apertura la stessa notizia professore arrestato per violenza eh su eh un allieva poi nel taglio alto invece altre due notizie dragaggi da Roma nuove regole ieri un incontro al ministero per le ehm le 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 procedure per il dragaggio dei eh fondali entro una decina di giorni il risponso definitivo per Monfalcone e per eh Grado e poi eh proprio a Grado riparte l'operazione isola di Morgo nuovi scavi a Grado per recuperare gli avieri americani precipitati nel millenovecento quarantaquattro. Andiamo adesso sulle pagine interne del eh piccolo di Gorizia e vediamo il titolo di apertura. È operativo il CUP nelle farmacie isontine per prenotare esami specialistici e eh visite una battaglia durata vent'anni e vinta da Federfarma. Il presidente Pierpaolo Marzini dice sviluppo positivo ma non possiamo ancora far pagare il eh ticket. Gorizia si è adeguata così al resto della eh regione. Andiamo adesso sulle pagine sportive dei eh quotidiani eh locali. Cominciamo con il eh messaggero Veneto di Udine. Andiamo a vedere i titoli di apertura del fascicolo eh sportivo. C'è il mercato in primo piano con Barac, scatto del Lecce, l'alternativa è eh il Torino de Maio, addio eh congelato. L'udinese cede il cieco, manca la firma del giocatore, tentato dai Granata. Pozzo blocca il francese, voci su Brescia e Bologna e anche Nestorowski. Per quanto riguarda invece eh il eh il bianconeri in infermeria ce la conferma nessun problema per eh Trost eh e Kong. Di spalla vediamo le decisioni del eh giudice sportivo due turni all'autaro salterà anche il derby. Conte Graziato sarà in panchina al Friuli. Niente squalifica per il tecnico dopo le proteste a fine gara con eh il ehm Cagliari. Ancora eh vediamo nel taglio basso le ultime sui e biglietti per il posticipo di domenica solo la curva nord esaurita su dei distinti pochi posti e tribuna laterale eh sguarnita scrive il eh messaggero. Ancora rimanendo sempre eh su queste eh pagine ehm su questo giornale voltiamo pagina e eh parliamo di ehm eh portieri di Gregorio e scuffette tutto partì un girone fa il portiere del Pordenone titolare dalla gara contro lo Spezia il Friulano sabato farà cento eh da eh prof a sei anni dall'esordio in A. Un confronto fra i due eh portieri che si troveranno eh di fronte nel prossimo turno eh di campionato entrambi hanno esordito con le rispettive maglie nella gara d'andata da allora uno non è più uscito dalla formazione titolare l'altro solo in tre circostanze poco cambia con la sfida di sabato primo febbraio al picco Pordenone Spezia Michele Di Gregorio e il Friulano Simone Scuffette festeggeranno un girone a difesa dei pali delle proprie squadre una sfida nella sfida tra due portieri di ventidue e ventitré anni curiosità vuole che Scuffette al cospetto dei ramarri festeggerà la sua centesima presenza tra i professionisti quando ricorrerà il sesto anniversario dall'esordio in A con eh Udinese Pordenone che sabato avrà tutti a disposizione in casa Spezia Mora e eh squalificato e Stellone è il nuovo eh allenatore eh dell'Ascoli avevamo visto prima in ehm prima pagina il eh richiamo all'articolo all'intervista a eh sottomaiore l'agenda della leggenda dell'alto così riuscivo a volare a due metri e eh quarantacinque il primatista del mondo cubano racconta la carriera epica l'Olimpiade è vinta e eh quelle saltate per i boicottaggi gli ori ai eh mondiali oggi sarà testimone della sfida in eh pedana fra Troste e Vallortigara con vista Tokyo duemila e vendi duemila e venti al meeting eh che eh si disputerà al Palabernes di eh Udine e poi vediamo anche gli ex primatisti italiani Talotti e eh Toso che ricordano il primo incontro con il Caraibico dicono aveva solo diciassette anni ma già la personalità del eh campionissimo chiudiamo questa pagina eh sportiva chiudiamo il eh messaggero Veneto per andare adesso sulle pagine del eh gazzettino e dare un'occhiata anche ai titoli sportivi del gazzettino del Friuli vediamo se riusciamo a eh recuperare il gazzettino e andare a leggere assieme le i titoli sportivi ecco qua cominciamo con l'Udinese con l'Inter Gotti tentato dal cambio di modulo scrive il gazzettino rispetto alle ultime due domeniche potrebbe giocare Iaialo al posto di una delle due punte uno schieramento più accorto come all'andata ma sarà importante mantenere i eh nervi e saldi e poi abbiamo le prime righe dell'articolo qua da oggi quando riprenderà la preparazione dei bianconieri che ieri hanno usufruito del giorno di riposo l'Udinese inizierà a pensare solo all'Inter lo chiedono la società e Luca Gotti perché domenica sera servirà la concentrazione ottimale per sperare di arginare la vicecapolista e una gara da preparare nei dettagli che dovranno poi essere riproposti al meglio anche in campo contro l'Ukaku e eh compagni e poi vediamo eh ancora sempre su eh questa eh pagina andiamo a riprenderla eccola qua nel taglio basso le voci di mercato Barak verso Lecce scrive il gazzettino il Bologna chiama De Maio fatta per opoku alla Mienne si pensa all'austriaco Prodl ancora sempre sulle pagine del eh gazzettino vediamo eh di spalla proprio domenica nelle file dell'Inter Lautaro squalificato ma ecco il nuovo arrivato eh Eriksen e poi domenica sera la prima volta di Alexis Sanchez in campo d'avversario davanti ai suoi tifosi eh friulani parliamo di Pordenone adesso sempre attraverso le pagine del gazzettino De Agostini suona la carica alla Spezia per i tre punti il capitano sprona la squadra dice dobbiamo ritrovarci subito è stato un incidente la sconfitta di eh venerdì scorso Ciurria torna a lavorare in gruppo Gavazzi è acciaccato l'ex udinese Marino a eh Empoli un'altra non notizia che riguarda il le le panchine in questo eh caso panchine bollenti dopo Luciano Zauri sostituito da le grottaglie è saltata anche un'altra panchina di B e quella dell'Ascoli eh lo eh zero a uno eh subito al del duca dal Frosinone ha spinto la dirigenza eh Picena a esonerare Paolo eh Zanetti di affidare temporaneamente la conduzione della prima squadra a Guillermo a Bascal e il nono avvicendamento da inizio eh stagione in novembre a Empoli è stato ossidurato Cristian Bucchi al suo posto Roberto Muzzi non sono riusciti a mangiare il classico panettone nemmeno Roberto Breda sostituito a Livorno da Paolo eh Tramezzani e poi domenica a Empoli è stato tagliato anche Muzzi che aveva rilevato Bucchi dando spazio a un altro ex udinese navigato Pasquale Marino ed ecco qua la tutta la eh pagina che fa il punto sulla serie B sul eh gazzettino Salernitano e Frosinone scalano la eh classifica. Chiudiamo questa pagina del gazzettino del Friuli e chiudiamo anche questa nostra prima parte di rassegna stampa come ogni giorno adesso un po' di pausa diamo la linea alla regia la programmazione ci rivediamo alle otto con tutti gli aggiornamenti sulla viabilità sul meteo ritorneremo anche sulle pagine dei quotidiani di oggi concentrandoci un po' di più su quelle sportive insomma un'altra mezz'oretta da passare assieme in diretta a partire dalle otto ci vediamo più tardi